andari dietro appassi buttata solo due cose qua quella leva oissa meno male che era la coda 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 allora 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 ok lo spazio per la polvere da sparo che significa che posso fare basta niente andiamo allora ora siamo qua c'è ancora c'è ancora altra roba qua che non ho visto guarda munizioni granata ok poi no quello non mi serve c'è fin troppo ok 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 andiamo di qua andiamo di là c'è un tesoro qui bene non si muoveranno vero vero di no fatto fatto ne manca uno di ratto vero ok siamo usciti qua manca ancora manca ancora allora testa di leone ok uh aspetta hai capito il cubo di dove è aspetta fai una cosa il cubo dov'è guarda sì ecco oh oh amico io vieni vabbiamo un po' abbiamo una bella selezione di articoli vedo questo ah no ci si non serviranno a nulla nella tomba non ancora aspettiamo allora ci abbiamo ok qua ecco questo ora come si apre ciao curo allora secondo te quello come si apre come potrebbe aprirsi c'è qualche leva qualcosa nascosta qua vuol dire qui ti faccio vedere io le sala da pranzo testa di serpente sala da pranzo aspetta ho trovato forse ho trovato io le si 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 guarda non succede niente Ashley aspetta ci sfugge ancora qualcosa ci sfugge ancora qualcosa mh hai trovato ah devo intonare una canzoncina vuoi vedere c'è di te ok ah no stupido 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 allora io devo stare con la bottiglia avanti tre posate e lei con il bicchiere due ok tre io ok con abbiamo detto con la bottiglia di vino è questa posizione giusta qua questa è no no lei deve stare là sono io che devo stare in un'altra posizione questa vedi c'è pure l'uovo è questa è questa qua ci siamo riusciti ce l'ho fatta tutta da sola aspettate un attimo arrivo subito allora mi manca l'ultimo ratto dove sta l'ultimo ratto dove sta l'ultimo ratto dove sta l'ultimo ratto oh it's wonderful oh eccola e neggia nel filmato lo posso usare il coltello dimmi che una porta di legno ferma uno di quelli ok vabbè aspetta mi ha scappato non ti ammazza oh ma mi sono spaventato mi ha scappato mi ha scappato mi ha scappato mi ha scappato